What's up a tutti ragazzi da giocherina 979 allora scusate se l'inquadratura si muove ma devo fare soltanto un brevissimo annuncio così come avete letto ovviamente dal titolo del video oggi pomeriggio, ore... ore... non ho ancora deciso facciamo ore... non so, ore 5 e 30 ore 17 e 30, live numero 2 da parte appunto di giocherina 979 quindi mi raccomando se sarete connessi e vi va di perdere un po' di tempo insieme a me non esitate a venire a guardare il mio secondo live che non avrà un argomento preciso sarà ovviamente un live come al solito e come al mio solito di puro scazzo sarò prontissimo ovviamente a rispondere a tutte le vostre domande quindi nient'altro da aggiungere, ripeto, ore 17 e 30 live numero 2 da giocherina 979 partecipate in tanti ragazzi mi raccomando quindi ciao, un bacione what's up a tutti da giocherina 979 ciao